Termina agli ottavi di finale l'avventura dell'Under 17 del Napoli. Nel primo turno dei play-off a Sant'Antimo è il Pescara in rimonta a conquistare la qualificazione. Nelle prime fasi del match il Napoli sembra più incisivo. Al settimo su assist di Gaetano Labriola potrebbe involarsi verso la porta avversaria ma viene fermato dall'assistente dell'arbitro Rainone per una posizione di fuorigioco che sembra esserci. Al dodicesimo risponde il Pescara. Borrelli dalla sinistra gira il pallone in area di rigore per Palladini la cui conclusione è respinta da Dandrea. Al sedicesimo passa il Napoli. Gaetano si inserisce sulla sinistra, entra in area di rigore, palla al piede e martella lo aggancia. Per l'arbitro non ci sono dubbi e calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Gaetano che non sbaglia. Sprecacè intuisce la direzione del tiro ma non ci arriva. Nel Pescara si ferma Di Federico. Mister Mancini è costretto al cambio. Al suo posto entra Pavone che poi si rivelerà la carta vincente nel finale del match. Al trentesimo Gaetano va vicino alla doppietta. Ottimo il cross di Pirone. Splendida la coordinazione del numero 10 azzurro con la girata di destro al volo che termina di poco a lato. Al trentacinquesimo è il Pescara invece ad avere un'occasione per il pareggio. Pompetti con una magia trova lo spazio per servire Palladini che premia il taglio di Pavone la cui conclusione è respinta di piede da Dandrea. Al quarantunesimo il Napoli potrebbe raddoppiare. Pirone approfitta di un errore di Sabatini nella propria tre quarti. Avanza fino all'area avversaria ma invece di servire Micillo va al tiro. Sprecacè non riesce a bloccarlo ma il pallone termina sul fondo. Non c'è tempo neanche per il corner. È l'ultima emozione della prima frazione di gioco. Nella ripresa è di Gaetano il primo spunto degno di nota. All'undicesimo Palmieri tenta la rovesciata. Diventa un assist per Gaetano il cui tiro a giro termina di poco alto sopra la traversa. Un minuto dopo è il Pescara a sfiorare il pareggio. Cross di martella per Borrelli in anticipo su Bartiromo. Sabatini cerca di fare la torre per Palladini. Smanaccia Dandrea. Il colpo di testa di Camplone a porta vuota termina di poco a lato. Mentre il portiere azzurro protestava per un fallo ai suoi danni. Rimediando anche l'ammunizione. Al quattordicesimo il Pescara reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di Mano di Senese. Che invece colpisce di spalla il pallone sugli sviluppi di un rimpallo. Al ventesimo il Napoli spreca la palla del 2-0. Gaetano servito dall'Abbriola trova la risposta di Sprecacé che si supera anche sul tapin del numero 7 azzurro che viene beccato però in fuorigioco. Gol sbagliato, gol subito. Un minuto dopo il Pescara trova la rete del pareggio. Sponda di Borrelli, Pompetti controlla il pallone di destro e sfodera il suo mancino dalla distanza battendo D'Andrea. Al ventiquattresimo il Napoli ha l'occasione per riportarsi in vantaggio. Calcio di punizione di D'Alessandro. Stacca Palmieri, Sprecacé si distende e fa su il pallone in due tempi. Al trentaduesimo gli azzurrini sprecano ancora sottoporta. D'Alessandro intercetta la sfera sulla mediana e verticalizza per Gaetano che arriva a tu per tu con Sprecacé e si fa respingere la conclusione. Un minuto dopo è un tiro cross di Martella ad impensierire D'Andrea che si rifugia in corner. Al trentanovesimo il portiere azzurro dice no a Palladini deviando sul fondo la sua conclusione ma al quarantaduesimo non può far nulla sul tiro a giro di Pavone che di sinistro spedisce il pallone nell'angolo opposto facendo esplodere di gioia l'ambiente pescarese. Il Napoli non molla e riesce a produrre un assalto nel finale ma sul colpo di testa di Senese Sprecacé si supera e spegne le speranze azzurre. Il Napoli va fuori dai playoff nella categoria under 17. Va avanti il Pescara che nel secondo turno incontrerà la vincente di Juventus Spezia. Grazie a tutti.